è prima colombi a meno che non portano come vediamo subito se sei prima colombi se non deve starci a camminare a meno che non portano Sì, sì, sì. oh via il tempo lo fa lui guarda che guida no qua sopra c'è l'inversione vera sono dimenticato vabbè taglia non 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 Sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' pinzato E' venendo giù molto piano E' andato Sa che finisce la tappa E' via casa Dice che rimasto in terza E' venendo giù molto 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 No? E' venendo giù molto 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 Povera E' venendo giù molto Questo è E' venendo giù molto 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 Andiamo giù molto E' venendo giù molto E' venendo giù molto E' venendo giù molto E' venendo giù molto Oh parco E' venendo giù molto E' venendo giù molto Bravo E' venendo giù molto E' venendo giù molto E' venendo giù molto E' venendo giù molto E' venendo giù molto